La risonanza magnetica può essere utile per porre diagnosi differenziale di artrite reumatoide anziché psoriasica? E che dati ci sono a riguardo? Lo abbiamo chiesto al professor Salaffi, coautore di uno studio presentato nel corso del 59esimo congresso della Società Italiana di Reumatologia. Allora, professor Salaffi, la risonanza magnetica ha un ruolo nella diagnosi delle artriti? Sì, indubbiamente sì. La risonanza magnetica oggi acquisisce un ruolo fondamentale nella diagnosi precoce, non solo nella diagnosi della malattia espressa, ma anche nella diagnostica delle forme molto iniziali, cioè quelle subcliniche, dove ancora la valutazione clinica non trova una possibile spiegazione della presenza di alcuni segni semiologici che sono rappresentati appunto dalla presenza di una sinovite. In questo contesto la risonanza magnetica si pone come tecnica di riferimento, e questo è suggerito dalle linee guida internazionali, nel reperimento della presenza di una sinovite proliferativa o di un versamento a carico delle articolazioni difficili da esplorare a livello clinico, ma anche con la presenza di un altro segno che è caratteristico della risonanza magnetica, che è il cosiddetto edema osseo intraspongioso. Si tratta di una lesione molto importante, soprattutto nell'artrite reumatoide, perché in associazione per esempio con anticorpi e anticitrollina, i soggetti che presentano clinicamente solo artralgie, e quasi il 50% di questi soggetti consente di diagnosticare una forma di artrite all'esordio per la presenza almeno di una sinovite subclinica. Ed è ovvio che da questo punto di vista la metodica rappresenta una metodica di elezione nella diagnosi molto precoce, addirittura preclinica, della patologia. Ecco professore, molto sinteticamente, ma quali sono le caratteristiche distintive tra le due patologie dal punto di vista della semiotica radiologica? Sì, uno degli aspetti difficili da questo punto di vista, ma possibili, è appunto la capacità da parte della metodica di distinguere alcuni elementi fisiopatologici, ma soprattutto semiologici, che consentono una distinzione, quindi una differenziazione fra l'artrite reumatoide rispetto all'artrite psoriasica, che è ovviamente la patologia più frequentemente in causa in termini di diagnostica differenziale. C'è da dire intanto dal punto di vista, diciamo, anatomico, che l'artrite reumatoide colpisce prevalentemente le articolazioni metacarpo-falangero, interfalangere prossimale e il polso, a differenza dell'artrite psoriasica, dove invece il coinvolgimento delle articolazioni interfalangere distali rappresenta una caratteristica distintiva e quindi è chiaro che questo rappresenta un aspetto semiologico clinico estremamente importante. Ma gli aspetti puramente semiologici di imaging in risonanza magnetica sono rappresentati dalla presenza dei segni caratteristici dell'artrite psoriasica che sono rappresentati dalla compromissione del periosteo e quindi la cosiddetta periostite, dove radiologicamente e dal punto di vista in particolare della risonanza magnetica questo aspetto di edema osseo che si estende al di là dell'articolazione, ma fino all'entese, alle metafisi, rappresenta appunto il coinvolgimento dell'entesiale che è tipico dell'artrite psoriasica e che non ritroviamo quasi mai nell'artrite reumatoide e poi come si diceva la compromissione di articolazioni interfalangere distali che non sono una caratteristica dell'artrite reumatoide ma che lo sono invece in corso di artrite psoriasica. La presenza invece di erosione, di sinovito, di versamento sono analoghe segni che possono essere presenti in entrambi i casi e per quanto la risonanza sia molto sensibile nella evidenzazione di queste caratteristiche ovviamente non costituiscono un carattere distintivo. Per concludere due domande in una, le volevo chiedere innanzitutto quando deve sorgere il sospetto che ci sia gotta artrite psoriasica e poi che ricadute ci sono appunto dall'utilizzo di queste tecniche in termini di pratica clinica? Sì, è evidente che la possibilità di distinguere già le fasi di esordio una patologia dall'altra rappresenta un aspetto estremamente importante soprattutto lì dove non sia possibile clinicamente identificare la presenza di una forma sieronegativa o di una spondula artrite, in particolare stiamo parlando dell'artrite psoriasica rispetto a un'artrite romatoide. È chiaro che l'approccio e la valutazione che verrà effettuata in termini anche di valutazione della malattia e di indicatore prognostice è totalmente differente. Quindi è totalmente differente anche l'eventuale approccio terapeutico e quindi l'ausilio di una metodica sensibile e specifica come la risonanza magnetica in mani esperte può rappresentare un utile ausilio per un inquadramento diciamo razionale e opportune precoce delle due forme. Grazie a tutti. Grazie a tutti.